Sotto questo sole facciamo tre ricette molto fresche, perché dobbiamo sconfiggere questo caldo in qualche modo e mangiare cose calde non è il caso. Probabilmente potrei anche evitare di stare sotto il sole a cucinare, però mi sento molto nel mood summer, non così? Sono tutte e tre molto golose secondo me, nonostante tutto, perché comunque sono sane e leggere, cioè sia ben chiaro. Queste qua sono delle idee, ma in base ai vostri gusti ovviamente potrete sbizzarrirvi e anche in base alla fantasia. Tutte senza cottura, a parte in una, che in realtà poi potreste comprare il prodotto, l'ingrediente già precotto, che non c'è nulla di male, soprattutto se fa caldo e volete proprio allontanarvi dai fornelli. Io direi di partire con un bel panozzo, lo combineremo con il prosciutto cotto e la salsa tonnata, pomodoro e insalata. Non spaventatevi, salsa tonnata e prosciutto, una favola. Fidatevi, andiamo. Sotto olio sgocciolato, eh. Questi qua sono i frutti del capro, ma ovviamente anche i capri normali andranno benissimo. E acciughe. Pochissimo sale, pochissimo, perché comunque abbiamo l'acciuga già salata. Sminuzziamo un po'. L'uovo intero, il tuorlo. E adesso possiamo unire l'olio di semi a filo, piano piano. Perfetto, è venuta proprio giusta per i miei gusti. Se la volete un pochino più densa, aggiungete ancora un po' di olio di semi. In ogni caso si la prenderà ancora un po', perché adesso la metto in frigo. Questa qua è tipo una ciabatta, eh. Magari potrei rimuovere un po' di mollica, così avremo più spazio per il ripieno dentro. Poi questa qua, volendo, la potreste tostare, mettere magari su una pasta. Facciamo andare così. Metto la salsa su tutte le due metà. Il pane comunque non dovete tostarlo troppo, eh, perché altrimenti si secca. Ho qui le foglie di insalata, che ovviamente metto sulla base. Un po' di pomodoro. Questo qua è cuore di bue. Volendo potreste usare l'arrosto di tachino già affettato. Oppure anche del pollo alla piasta. Ancora un po' di salsa, perché non è mai abbastanza. E copriamo. Secondo round, andiamo con un'insalata a base di farro, come dico io farro, perché con questo apparecchio faccio fatica a dire la R, farro, combinata con un pesto di rucola. Ho bisogno di una crema, perché altrimenti fatico a mangiarla io l'insalata di farro. Invece vi assicuro che con questa crema, anche magari chi non ama i piatti salutari, apprezzerà molto questo piatto, proprio per questo motivo. E poi la combiniamo anche, perché è tutta una combinazione, no, questo piatto. Pomodorini e cigliagine di mozzarella. Nel bicchiere del frullatore metto la rucola. Aggiungo le mandorle, ma volendo potreste usare i classici pinoli oppure anche le noci. Pecorino e formaggio grana. Oddio esplode. Pizzichino di sale. Non tanto perché abbiamo il pecorino. Basta, basta, mi è andato anche sul tavolo. Aggiungo anche lo spicchio di aglio, che è facoltativo. E togliamo anche l'anima, così è più digeribile. Non è tanto, lo so, ma perché? Perché aggiungiamo anche una parte di acqua, appunto per averlo un po' più leggero. Anche un po' di pepe che ci sta. Aggiungo ancora un po' di acqua, ma poca, perché magari potrebbe risultare un pesto un pochino troppo denso, altrimenti... Profumatissimo e si fa in un lampo. Il farro, questo qua, come ci siamo detti il farro, no? L'ho già cotto in precedenza. Questo qua è farro decorticato e ha la necessità di essere messo in ammollo per circa 6 ore e poi dovrete farlo bollire circa 50 minuti, come se fosse pasta. In acqua bollente, salata, lo scolate, lo sciacquate leggermente sotto un getto di acqua fredda per abbassare, insomma, la temperatura e poi lo fate raffreddare su una placca, così. Oppure potreste scegliere il farro perlato che ha la necessità di cuocere per circa 35 minuti, altrimenti il farro precotto che dovrete cuocere in acqua bollente per circa 10 minuti, oppure addirittura il farro già cotto che si trova nei barattoli, basta dargli una sciacquata e lo usate senza cuocere niente, quindi. Uso un coltello a sega, così non fate troppa pressione. Le ciliegine di mozzarella, un po' di rucola per richiamare il pesto, però poca, magari tagliata così, tricolore. Metto un pastichino di sale, magari. So che potrebbe non risultare invitante, perché vedete tutta questa mescolanza di cose, ma è questo il bello, è che renderà buona questa insata di farro. Questa crema la renderà il triplo più invitante rispetto a quelle tristi insate di farro tutte slegate. Adesso questa qua, io vi consiglio di metterla in frigo per circa un'oretta, giusto per amalgamare meglio i sapori e poi la servite. Rustico ma ci sta, eh. Siamo giunti alla terza, oh madonna che mi zampo, la terza idea, l'idea vegana, quindi totalmente vegetale. È un'insalata a base di frutta, verdura, legumi. Abbiamo il melone come protagonista, sarà freschissima. In Italia una metà scarsa, tolgo ovviamente la parte interna. Volendo potreste ricavare le sfere, però io preferisco quasi, anche per rapidità, no? Perché in estate siamo tutti un po' più rapidi, vogliamo fare in fretta. Preferisco ricavare dei semplici cubetti. Voglio preparare una bella citronette per condirla, ma non con il limone, con il lime. Ci metto un pochino di scorza per renderla più aromatica. Così basta. Pizzichino di sale. Sapete che io vado sempre un po' ad occhio. Un tre, quattro, cinque, sei. Ceci. Il mais. Perfetto. Adesso assembliamo l'insalata nel piatto, perché voglio fare una bella composizione. Non voglio mettere dentro tutto, eh. Volevo condire alcuni elementi, mentre altri lì terrò un pochino più svolazzanti. Vi faccio vedere. Allora, cosa intendo per elementi svolazzanti? Metto un po' di valeriana sul fondo del piatto. Un po' del melone, un po' dei ceci. Poi ovviamente se non riesco a metterli tutti farò altri piatti, però intanto ve ne faccio vedere uno. Poi termino con delle strisce di cetriolo. Direi che ci siamo anche con questo. Come al solito ho finito all'ultimo, anche per le foto, così adesso la luce se ne va del tutto. Spero veramente tanto che queste idee vi siano piaciute. Se ne provate a fare, ormai lo sapete, tagatemi su Instagram o su Facebook, che a me fa estremo piacere. Vi lascio come al solito qua altri due video, se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale qua. E attivando la campanella rimanete aggiornati sui contenuti. E invece qua sotto c'è il collegamento con il blog. Io parto con il panino perché è quello che mi fa più gola, ma poi proseguo con tutto il resto. Saluti e baci. Cioè, prosciutto e salsatonnata top.